Pronta? Sì Ok Nome e cognome Soprannome In palestra Non c'è un modo in cui ti chiama la Chiara Va bene Anni? Sette Che classe fai? Seconda La tua materia preferita è quella che non sopporti Quella che non sopporto Italiano E quella che preferisco Matematica Ok Il tuo animale preferito Pinguino Pinguino Ok Colore preferito Perde acqua Perde acqua Cibo preferito Lasagna Lasagna Sport che pratichi Da quanti anni lo fai? Neanche da un anno Beh un anno Sì Ormai Perché hai scelto la ginnastica? Perché Prima facevo anche un auto Però dopo qua Mi sono staccata E ho iniziato a fare sempre ginnastica Quindi adesso mi piace Ok E l'anno scorso erina è la preagonistica delle piccoline vero? Ok Quante ore ti alleni? Tre Tre e un po' al giorno Tre e un po' al giorno Tre e dieci Al giorno? Però hai dei giorni in cui non ti alleni? No Domenica e? Domenica e quattro Ok Il tuo attrezzo preferito? Cinghietti Cinghietti Sei pazza Cinghietti Va bene Quello che non sopporti? Tre Non avevo dubbi L'elemento più difficile che sai fare Scegli tu a quale attrezzo? Uno Due Due dai va bene La Kipo A parallela E Sempre a parallela Slancio Ok Sono i due più difficili in assoluto che sai fare? Sì Come ti senti quando devi fare una gara? Dipende dalle gare Quella che fa Quella che fa Quella che fa Quella che fa I nazionali Sì Quelli regionali Io Un po' Un po' Più tranquilla Sì Ok Però sono andati bene Quindi va bene essere agitate Hai dei porta fortuna? Mh Nella gara? Sì Cosa ti porti Di solito Ho un pazzo Che mi porta A fortuna E chi ti porta a legare? La mamma o il papà? Dipende Dì il giorno che legare Se è domenica Vieni Vieni E con tutti Da la famiglia E se è domenica Vieni Io so Che ti dà Mh Ok Come ti senti Quando in palestra Non ti viene qualcosa? Provi Provi Riprovi Ma non ti viene proprio? Arrabbiata Arrabbiata E poi ci provi Un sacco Vero? Per riuscirci Sei molto determinata Sì Com'è La tua allenatrice? Com'è il vostro rapporto? Andate d'accordo? Così 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 Ti sgrida tanto? A volte Ah Però avete un bel rapporto? Sì Allora Un tuo pregio E un tuo difetto Quindi una cosa bella di te E una cosa Così così Una cosa brutta Quando mi fa capire il mio fratello Una cosa E diventi cattiva? Sì O ti arrabbi? O sì Una cosa Che bella Quando Il mio fratello giocava sempre con me Ok Quindi tagli vuoi un sacco di bene al tuo fratello Ok Fai un saluto matto Ciao 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 Ciao